Buongiorno, sono Marco Astore di BG Log ed oggi ho il piacere di presentarvi questi nuovi Flowrack Kanban che verranno inseriti all'interno di un nuovo stabilimento per un'azienda produttrice di sistemi per l'illuminazione. Soluzioni costruite con profilo tubolare rivestito in ABS grigio, venti neri e profili a rulli. Abbiamo aggiunto delle ruote pivotanti di cui due dotate di sistema frenante in modo tale da ricollocarle facilmente all'interno dello stabilimento in caso di eventuale relay out dell'area assemblaggio. Flowracks composti da quattro livelli ognuno dei quali con quattro corsie in modo tale da servire le postazioni da lavoro nei tempi e nelle quantità corrette. Soluzioni modulari e personalizzabili, infatti grazie al sistema SmartTube le altezze si possono modificare e configurare velocemente, così anche le corsie per i contenitori, in modo tale da adattarle alle dimensioni delle vostre cassette. Inoltre mantengono sotto controllo l'inventario, infatti ogni corsia è costruita e progettata per uno specifico articolo, in modo tale da consentire all'operatore di capire facilmente l'andamento delle scorte riducendo i tempi di ricerca del materiale. Oltretutto per movimentare i contenitori sfruttano unicamente la forza di gravità, senza quindi dover andare a utilizzare dell'energia elettrica, riducendo i costi operativi. Infine sono ergonomici, quindi invece di avere enormi contenitori ingombranti difficili da maneggiare per l'operatore potrete ospitare tutti i componenti all'interno di piccole cassette, effettuando quindi dei movimenti e delle operazioni sicure ed ergonomiche. Quindi se state cercando dei flow rack per attrezzare il vostro bordolinea, visita il nostro sito www.vigilog.it per saperne di più e contattaci per un progetto personalizzato sulla base delle vostre specifiche esigenze di intralogistica. Vigilog, l'inmanufacturing solution.